HIIT TOTAL BODY esercizi di facile esecuzione e tempi 30 e 30 una sessione veloce per iniziare ad allenarsi con un workout ad alta intensità vamos ok ragazzi iniziamo super HIIT TOTAL BODY andiamo a lavorare tutto il corpo in workout HIIT massima intensità e recupero breve allarghiamo bene facciamo un bel riscaldamento per la parte sopra vai incrociamo vai sopra e sotto piega un po' le gambe scaldiamo bene le braccia prima di iniziare più ci scaldiamo più riusciamo a spingere e più ci tuteliamo dagli infortuni circonduzione in avanti vai lento controllato apro bene apro bene porti in avanti inizio la respirazione naso bocca naso bocca vai 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 3 2 1 dietro allargo un pochino più piano scaldo bene vai ampio scaldiamo bene la parte superiore braccia gambe poi successivamente vai lavoriamo sopra un attimo scaldiamo bene 3 2 1 pieghiamo le gambe tronco scaldiamo bene vai movimento lento controllato 5 secondi passiamo torsione tocco gomito ginocchio alternato vai pan pan incrocio incrocio vai incrociamo destra sinistra destra sinistra vai 5 4 3 2 1 dietro iniziamo a scaldare bene anche la parte sotto respirazione attiva naso bocca naso bocca dai carichi per questo total hit vamos 3 2 1 slancio in avanti vai alternato salgo col piede mano su vai su vai su salgo skip e risalgo squat vai cambiamo e salgo pam pam veloci brillanti agili va 10 secondi mantieni il ritmo non ti fermare 4 3 2 1 corsi di talento sul posto recupera recupera recupero attivo lavoriamo lavoriamo alta intensità e recuperativo questa è la hit bruciamo e recuperativo bruciamo e recuperativo ripartiamo 3 torsione e pugno pieghiamo un po' le gambe torsione e il pugno allarghiamo andiamo giù vai pam pam veloce vai mantieni il ritmo non ti fermare pam pam vai ritmo sostenuto 10 secondi vai spingi spingi 5 4 3 2 1 dietro respira ripartiamo con push up in ginocchio piedi sollevati facciamo un push up assistito riprendi fiato respirazione sempre attiva naso bocca naso bocca ci prepariamo per il push up andiamo giù incrociamo le gambe e partiamo vai mantieni il ritmo appoggio e salgo appoggio e salgo vai 15 secondi veloce lavoriamo braccia pettorale andiamo vai vai vamos 5 4 3 2 1 sali corsettina lenta recuperiamo 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 attività respiratoria sempre intensa naso bocca naso bocca ripartiamo 10 secondi jumping jack veloce rapido nel momento di intensità 5 4 3 2 1 vai jumping jack pan pan veloce braccia piegate tocchiamo in cima tocchiamo vai mantieni il ritmo non ti fermare veloce bruciamo alla grande vai 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 3 2 1 recuperativo vai con le gambe dietro respira ripartiamo 20 secondi affondi indietro alternato respirazione sempre attiva rallentiamo e appoggiamo il ginocchio a terra sfioriamo utilizziamo le braccia ok 3 2 1 ci prepariamo e andiamo e sal vai vai veloce controllato scambio rapido pam pam attiviamo gambe attiviamo glutei scendo e salgo 10 secondi non ti fermare vai 5 4 3 2 1 ok corsettina lenta recupera butta fuori l'aria ripartiamo salto sforbiciato lavoriamo bene con braccia e gambe sincronizziamo il movimento accentuiamo il movimento grazie alle braccia ok 3 2 1 vai pam pam piccolo saltello faccio lavorare le braccia vai respirazione attiva mantieni il ritmo vai vai rapido rapido 10 secondi vai 5 4 3 2 1 dietro respirazione respiriamo naso bocca gli esercizi sempre braccia e gambe che sincronizzano e lavorano insieme ci prepariamo per il plank in movimento mai andare in apnea una gamba e poi l'altra sollevata verso il petto prepariamo 5 4 3 2 1 vai pam 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 mantieni il ritmo salgo addome contratto andiamo a lavorare tutto il corpo 15 secondi salgo salgo mantieni il ritmo vai vai 5 4 3 2 1 e salgo col set sul posto mi raccomando sempre respirazione naso bocca naso bocca mai andare in apnea sincronizza bene i movimenti braccia e gambe cura la tecnica la performance cardio hit massima intensità e recupero massima intensità e recupero 3 2 1 pausa ok ripartiamo step touch ottimo lavoro iniziamo a defaticare iniziamo ad allungare recuperare fiato 3 2 1 parti dietro inizia a respirare respiro profondo sciogliamo bene le gambe sciogliamo bene le gambe andiamo su ci prepariamo per la respirazione da fermo 4 3 2 1 gambe leggermente divaricate vado giù testa giù e prendo aria trattengo butto fuori vai un altro ok vengo su movimento del tronco lento controllato defatichiamo bene sia la parte bassa che la parte alta movimento lento continuo la respirazione ok allungamento braccio destro sopra la testa vai manteniamo la posizione respira 5 4 3 2 1 sciolgo dall'altra parte andiamo su manteniamo l'inclinazione 10 secondi non c'è bisogno di spingere mantieni 5 4 3 2 1 ok sciogli stretching gamba sinistra prendo la gamba utilizzo il braccio per aiutarmi nell'equilibrio nella stabilità mantengo respiro 3 2 1 sciolgo piano piano sciolgo dall'altra parte utilizzo il braccio per bilanciare mantieni l'equilibrio 5 4 3 2 1 sciolgo scelgo una gamba la incrocio vado giù puoi arrivare alla caviglia oppure scendere di più non esagerare con la discesa senti che ti lavora dietro 5 4 3 2 1 vengo su dall'altra parte incrocio e vado giù mantieni mantieni la posizione 5 4 3 2 1 ok vengo su piano piano sciolgo il tuo workout è finito se ti è piaciuto questo workout condividi con i tuoi amici che cercano il loro miglioramento e anche la loro prova costume al prossimo allenamento vamos a 2 3 3 4 3 4 4 5 5 5 6 9 10 10 10 Grazie.